Eh, una domanda, una risposta anticipata Ah, peccato A me serve Anche a me Serve, se due healer si sentono coraggiosi Stai di cè, ok veniamo con quattro healer Stiamo un'ora e mezzo con il Rage Ma in realtà quella di queste che c'è adesso, fattimilissimo Possiamo anche passaggio tra DPS, comunque non è che muore nessuno Mossa Dobbiamo fare anche il mafondi, per esempio Ah, quello di non usare la roba ai banditi per chi manca Qual è l'olio, le api? I cani Che dite? Mi serve anche quello, quindi Solo facendoli coi fug c'è sempre qualche simpaticone che raccoglieva roba a caso Perciò Cos'è Andrea? Io risulto da farlo quando ho capito Che bastava interagirci e non usarli Anche perché sono in ordine contraria Siamo nella due, eh? Sì Ok, aspetta cos'è la Salvation? Basta, basta Ah, ok, tutti i corsi E che poi dava diverso ai monticini Ok, i numeri per i fungozzi Sì 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 C'è il plan bot è proprio the map E dai, un secondo animaletto che si mangia tutto lo schifo schifo Pensavo ci fossero già Sì Stiamo, stiamo in una favola così Muro? O centro? Muro Mura Passo dal centro Passo dal centro No, passo dal centro ma facciamo la strategia laterale No, possiamo Centro così abbiamo più controllo sui slavio Ah, fai mettere parging flame qui, va? Oh, è morto Steve No Ah, sono io il task Eh, sì, vogliamo esentare ha preso una Oh, è un veleno al centro oggi Ok Soprattutto quella Chi ti ha ucciso Steve, diccelo Ma tu sei stato io? No, della terra Non posso essere stato io Non so Ho visto un largos Espansione confirmed Io ho un'idea cela Io ho un'idea cela Ma per caso è una pistolata che sei preso o qualcosa di simile Pistolata di fosso A colpo secco o la tua vita è calata molto piano? Perché? Ti sentivi già un po di mal di pancia? Ho visto burningle sicuro Un po' io ero agli spalle non lo so cerchi si restringe stai forse dicendo che sono i necro sto fermo all'inizio ops mi è partita la maite è un po' veloce no attaccatelo quello non è più steven qualcuno l'ha pullato adesso però l'ho visto no l'ha pullato potrebbe essere ok ok lasciamo andare steven per la sua strada dovete lasciarlo ormai ha fatto le sue scelte ma ora proviamo steven mentre vai avanti ti faccio il muro con la staffa vediamo se riesci a saltarlo il top fu una volta in un training aveva messo il fungo 1 era una signora adesso non dico i nomi però c'era una signora che faceva il fungo gli si chiamavano i funghi allora io avevo uno dietro che sapevo che mi avrebbe trovato però l'ho lasciato fare ha messo century qui la tipo ha mangiato poi rimbalzava e diceva ma perché va da pum ma perché andranno avanti il fungo no sono togliato stavo restando in pizza non ho visto neanche chi era sarà una run molto lunga così non è una lunga pareccia dai arriviamoci almeno a lei si era molto davanti e come vuoi guardami la mia pignatta non devo fare per porchiere con le nuove il team ride brutto corri 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 un secondo ragazzi mi stanno chiamando arrivo subito si ma che serviva questo qui è quella la challenge mode ah non è la challenge mode quello è è recentemente c'è una cimenti in cui devi tenerlo in mano per massimo tre secondi fino a che te la fai niente di poi lanciarla agli altri giocatori non deve toccar terra che magari hai fatto come la pallina di ara che se facevi un micropasso si si certo è uguale è ovvio identica ovviamente quindi lasci fuori due persone che corrono per conto loro si si anche perché si sbagliati gli altri stanno spammando skill e lo lanciano a tempo zero sul boss ah beh beh con ridicecco eh si l'ho tolto che ha detto che stava tornando vabbè stiamo sentito per magari mettere ready sospicioso se qualcuno gli preme il ready ma red sei in mutande non senti freddo tira aspetta che esce la lancia poi decidi come farò io bella la lancia ready non uccidete mi steven per favore ma si tate boni tate boni ok uccidete no tate boni gira di post posso andare non so aspettate che ancora stiven è abbastanza vicino porca miseria andiamo andiamo il dunk ti muova grazie di più di più di più vieni 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 più lontano tanto che c'era vai 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 no ma stiven è ancora vivo ragazzi che doveva essere ti ha sbagliato che c'è ah io ho fatto il pilinzo sotto le panche stiven stiven ha messo il centrale mio quindi metto un pochino dietro eeeh eeeh vai su poco tre atto no non ti posso prendere voglio perdere c'è 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 ma c'è la bomba dove faccio oddio sono andato la parte sbagliata eeeh eeeh lo sono incastrato mi sono fatto male da solo mi sono fatto male da solo con un po' pesato grazie maia c'è la bolla è il mio momento eeeh siamo un po' stretti c'è 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 no sono tutti in cooldown no sono tornato che cangio prende no ok sui range assolutamente cosa tutti abbiamo mancato ma cacciato sui range per cui però noi gruppo vabbè vabbè mi metto vabbè qui è stata morta non si si ok 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 su di me c'è il cleanse sono morto a un passo dal cleanse adesso sei in vivo a un passo dal cleanse si sono sdraiato a terra da 5 secondi però si diciamo così test count 14 nice wow ho droppato un corno asceso nice io il mini slot ti ho fatto un martello più bello del gioco oh il fungone si vende stasera eh si si vende numero uno si vende come anche quello ti compro tutto dai voglio farla cimenti non usare niente si dai proviamo non bisogna toccare nulla e nei barili nelle api nelle gabbie ok quindi non premete non premete F sbindate il tasto e uno per immortali si prende la bomba si lancia cc tutto tutte cose io con questo non posso farlo aspetta adesso non posso farlo non posso faccio come l'altra volta due app tre app no no io con la scuola non posso farlo o switch qualcuno qualcuno è con me solo per il terzo perchè così mi date una mano non posso fare un po' di cc quindi prendere andare sulla piattaforma tirarsi la bomba sulle palle o sui piedi e andare a cicciare tutto vieni 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 com'è vengo io si no solo per quattro l'ultimo quello che quando lo piace io mi dimenticai ne lasciai uno su e dico ma che cazzo è tutta sta roba non toccare niente se volete farla cismet e la ciberbolina esatto mannaggia la mannaggia non ho cambiato una skill ti tiene sempre con l'arma sbagliata è una cosa che ormai farà parte di me prenderemo tanto di quel caff questo parole dure da un uomo serio non un uomo serio non un uomo serio un uomo serio un uomo serio tutto da Narella eeeh parole dure è molto vero ma le carte piace molto gli snipper giuro Ah ragazzi venite venite qui, vi seguono tanto Mi hanno ingratto tutti, ho fatto il reflect in teoria Oddio ho mancato il gradino e mi sono rotto il ginocchio Ah vedi ragazzi venite che altrimenti sono sporpaigliati Tutti c'è una porta Vedo la porta, la porta Oddio mi guarda c'è in cartella Ale Ale Non botte Ma cosa c'è? Scendo Un minuto Quindi non tocchiamo roba Non tocchiamo niente, tutta roba rubata L'ultima fase sarà uno spasso Vabbè ci proviamo Se diventa tedioso poi se rifare Anzi quest'olio ho preso ora lo lascio on terra per sicurezza La sviglia presa abbiamo già perso la segment Hai provato un po' di volte quei pug Run per farlo Non ci hanno mai fatto a non prendere qualcosa Vai Una competenza Giuro è stata un'esperienza Arriva la signora È lo signor Beardo Arrivato Bergo Ciao mettiamo Bergama Nel game mi sono messo qui davanti per farmi dare saccagnate Sto facendo le mie cose E purtroppo c'ho l'utility che toglie le coni Perché sono andato qua dritto per dritto E non c'ho la sua Taglia Il signor Umberto E poi c'è Zidane adesso Prossimo al cerchio Enemy om enemy E' tornato not Com'è andato il viaggio Bello ma senza le avi Accidenti Ah tira la sui nemici Non sulla camera No non c'è Arriva il boss Circa Ora Domani Nel prossimo ride Ok 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 io Steven prima no 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 ha confessato io non ho il proiettivo a questo giro bisogna venire con me ah ok quando va accampato fammi la gandaglia imitatrice e io ti seguo va bene sto pronto intanto come fa a vederti dalla gabbia no perchè la visi talmente tante volte a arrivare che ormai li sente no ha un presagio dobbiamo andare ora tipo tipo si può andare per esempio ok uguale uguale stona il gabibbo uuuh 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 ah mi ha scaricato uuuh nooo uuuh uuuh quanto da fastidio questo boss senza che nessuno ti possa fare questa cosa perchè non la sto riuscendo a castare uuuh questo ha fatto quella bomba ma la bomba è bella vabbè come dicevo non ho fatto in tempo a cambiare un'utility ma si sente Qualcuno ha salgato da me Ah, sono in combat, ok Io mi tengo l'opzione che non devo vedere i cestini Mentre sono in combat, quindi adesso me ne ho preoccupato Ah, di giù, di giù Perché mi era capitato un sacco di volte O magari nel vvv che... Ti ami il cestino, sto combattendo contro un cretino Non mi aprirà le cose a schermo Da scassa Eh va bene, porca Va bene, ti aspettiamo C'è che c'è un altro gat devastante E si è un porca portale adamm io portaremi i tasti quando faccio ride ma è normale che vi abbia ancora il boom della ciment rimane lì per sempre cioè io che l'ho già fatto altre volte per sempre per fare quello di matalias serviva qualcuno si ricorda devi mangiare un food ah com'era? la roba strada mi fa tipo te consumi una blossom e ti mangiare una specie di food si quello che riduce le cure però non ricordo si ma probabilmente non ha effetto in realtà però prima che abbia senza food non mi credo c'è anche il titolo di contatto esatto una cosa così se volete guardarci ci sta provare ecco no mi fai volentieri però guarda voi adesso mi ricordo ho fatto con un agitamento nazionale qualche mese fa ma non mi ricordo io ho fatto un anno fa non mi ricordo devi costruire la ricetta qua dentro devi prendere i pezzi si c'è guarda c'è la fontana c'è la fontana qui no no ma è tutto qui però deve la blossom dietro praticamente e dove sto meglio ah se lo volete fare se fa eh a me va allora prima cleariamo il pre e poi ci torna tipo qui ciòpra ecco diciamo la festa al prete prima dice il vivacco un uccello mi chiama no vado giù come? c'era un uccello che mi chiama ah mi pullo tutti mi brucio tutti mi benedisco ok hai intanto il reflector me lo so già messo no ci prendo anche io qualcosa allora praticamente qui non mi ricordo come funziona vuoi trovare la blowstone per una qualche pezza qua c'è un forziere se serve qualcuno in realtà dobbiamo mandarlo tutti se lo mangiamo quindi questi sempre chi fa l'armatura ne deve aprire tot come era? ci trovava delle robe dentro basta prepararlo una volta si 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 facciamo un'altra volta dai che come volete ci prepariamo per la prossima volta vabbè si ok devo ancora fare la cimine quello lì envoy qualcosa dell'armatura legendaria se ne vuoi uno o due che lo devi fare? un per uno ma guarda l'uno ok allora dopo se non l'hai fatto interagisci con le fontane alla fine se non l'hai fatto ah poi c'è l'infest no forse no l'altra volta l'ha fatto victor c'era solo da parlare si c'è solo un'interagisci ce n'è uno per la kill mi sembri poi però c'è un altro che devi fare con le fontane che però mi sembra che è il cazzo del beehive è quello che comunque attacchi due o tre peste insieme mi sembra che sia madonna santa il fontane si trova del fucile ma ha aperto un mondo giocherò solo per il mio meraviglia non ho capito eh ci si è ci si è ti accicciare perchè mi ha potretti abitato qua qua? ancora un po' ancora un po' io lo finito grazie io sono giù ma restiamo tanto che lui fa le sequoassi io ci spacca di veleno ragazzi e qui c'è un problema che c'è un problema che c'è un problema no si accicciare ha detto no alla res no non è che mi fa sempre il veleno quando sono a terra per la sua canica di merda ah no grazie senti al cc prossimo quadrato cc al centro no ce la faccio vado io con la bolla ce l'ho anche io oh scusi oddio sono io con il cc niente andiamo uno sull'altro restiamo giù ah eh ho l'acqua che mi fa cadere sebbiamo andare troppi scatti veleno sul quadrato dai steggiamo spagge spagge è non c'è via fantasma Un po' non d'occhio Fantasma anche al centro Un altro fantasma dietro di me Un beleno, un'esplosione Io C'era anche io, il resto sti Uff, abbiamo preso il volo Un altro fantasma Eh, fontana libera, cerchio Oh, davanti io Un altro fantasma Eh, voglio vedere se riattento Un altro fantasma Un altro Un altro Dai, due persone Un altro Ho messo lo scudo di Cora, fa il simpatico alla fine Oh, c'è portafoglio Ho trovato il Unimartario Abomination Sulla fontanella si serve l'Aki Cioè lo shard a chi serve e la fontanella a chi serve la cimenta Che c'è Un ingranaggino Un ingranaggino